Aaaaah, si venga, si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina Lo iniziamo questo video in maniera seria, per tutto sto di fare i pazzi E' spannato un altro Recall Andiamo, andiamo a trovarlo Vediamo di prenderlo stavolta però Ma la seca! Non lo troveremo mai nella vita Ecco Guardate come salta senza un septile Non è vero Si si Sto vedendo Molto fiero È uno septile saltellante Allora ragazzi Facciamo un gioco Ok? Facciamo un gioco dai gansuoli Allora In questa casa, ovvero la mia C'è un segreto E voi dovete trovarlo Ovviamente non dovete distruggere niente Questa è la prima cosa Prima che poi Ok, pronti? Via! Attenzione Aspettaci gli indizi Voi fatemi delle domande Io rispondo sì o no al massimo Solamente se lo riterrò opportuno A parte gli oggetti qua A parte la macchina per gli scambi di sotto Ma sì, vabbè, certo Non è questo il segreto Il segreto è che è stata costruita in credi? Quello non è un segreto Comunque acqua C'è un balcone Acqua Ma non è il senso acqua Cioè nel senso che sia un po' lontani È proprio acqua Il segreto è che questo qui non è un letto Ma è un altare È un altare Non so chi abbia messo queste torce Sembra una cosa satanica È una cosa rigida Inquietantissima Io glielo tolgo subito Satana confirmed Nuovo pokemon di settima generazione Io direi che acqua è un indizio da non sottovalutare A Ok Quel A Era molto speranzoso Però poi Ok Vuol dire come Non ho capito Ah no Che c'era L'ascensore La cascatina questa qui No, vabbè Quello non è un segreto Ho un segreto È le MT che hai dentro la cesta È la bocca Enigma C'è una cascata Uh, qui c'è un buco Attenzione Un Gengar Dove? Attenzione Qui dentro c'è qualcosa Incredibile Roba segreta è volevi Roba segreta Rompiamo i quali E volevi E invece Cosa ho vinto? Brake Niente Ma c'è un Venusaur Mi basta come regalo Dov'è? Qua Dai Ti ho fatto questo regalo È anche enorme Non è vero perché non so dov'è È enorme Io provo a catturarlo No, no È il mio regalo Eh No Ho catturato Venusaur Ho catturato Venusaur Ok, va bene Vi stavo dicendo ragazzi Vi farò fare un giro adesso Nella 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 Linea ferroviaria Che abbiamo costruito Che ho costruito Anche in parte Ed è tipo una roba pazzesca E ve la faccio vedere subito Quindi ci vediamo direttamente alla stazione Quella lì Dove c'è Dove ci sono le grandi robe Va bene Ahia Ok È morto qualcuno stavolta No, non posso credere Che non sia successo niente Stavolta In che senso? Andiamo alla barra Eccoci qua Sta continuando a morire qualcuno Fermatevi Non picchiate le gente Ok, davanti di casa di Frozen Vabbè, fallo adesso Che io vi aspetto Faccio un taglio Ok No, non è vero Mi è passato Non è vero Non l'avrei tagliato Io per nulla al mondo Eccoci qua Eccoli Vabbè Va bene Andiamo Andiamo No Stavo mettendo un quadro Pronti? Uno Due Tre Dai che parte tocca andare? A destra Pronti? A destra Qui Qui inderà qualche problema con questi kart No Quindi facciamola partire per prima Anzi Anzi No Vabbè dai Vai vai Seguila 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 Io ci salgo sotto Quando ci dobbiamo fermare Ciao Alla prima volta che si ferma Vi fermate Vi dico io Eh ci siamo fermati No Colpa di Queendras commetto No 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 C'era un carrello da No no Togli di Queendras Stavo raggiungendo Ah vabbè ok Tieni vai Grazie Io qui sto andando In zone sconosciute Fermati Alla prima stazione Ok Eccolo L'ho starnuto Vai Taglialo Taglialo Mai È morto Attenzione Gli starnuti incredibili Allora ragazzi Mi sono fermato all'interscambio Ecco Ecco esatto Togli quel carrello in mezzo Eh no invece No No sto tornando indietro Sto tornando indietro Ti raggiungo No 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 Ok andiamo Vabbè In realtà se non ci fosse stato quel balordo Che metteva Quei cosi in mezzo Saremmo dovuti arrivare fin qui Ecco Adesso Pronti per partire Questa volta però dovete salire subito Perché qui parte subito a razzo Ok Aspetta dove? Oddio Qua a scendere Vai Poi però non vi fermate Non Mettete i carrelli in mezzo Non fate niente Pronti la prima Ok Quindro Ehm Vai No togiti Togiti Ok vai Ritenta Sarei più fortunata Pronta? Io ho il problema Vai Ma non me lo prende Carrello numero due Che bello portare i carrelli Ok fallo qua Fallo qua Vai Eh grazie Per i deficienti Grazie Oh Ce l'ho fatta Ecco ora basta che vai Ok perfetto Vai anche tu Oh Io invece ci vado così Ma quanto è bello andare in giro Vai Con mi scatto sotto i piedi Ok ragazzi Tutta questa zona Tutta questa zona L'ho fatta Oh sono uscito primi Ah no Ok Ok Guardate quanto Quanto ho fatto Quanto lavoro ho fatto Ciao Ehi prenditi un garido Sì in faccia No toglilo Che poi torno indietro Mi son buggato Hai buttato il gheridos Vero Ecco No Ok non butto Ti sono dei carrelli In mezzo No Sono quelli di prima Me li sto portando In giro Va bene Ok basta che non torno No mi sono fermato No togli quel gheridos Toglielo Che stavo ce l'ho fatta Si va sott'acqua Attenzione Anche il tunnel sott'acqua Il tunnel carpale Si Larga che è una gioia Ciao Mi si è imparlato Minecraft Ok ok Sono fuori dall'acqua Io Sono crashato No non è vero Si è ancora Sì Davvero Si Ok No non è vero No ora si Ora si crashato Qui tra noi invece Qui davanti No io no Ha dei problemi Con altri cattoli Ecco ti sto spinta Ecco qua Vai Attenzione Qua c'è il deserto Cioè guardate un po' Che lavoraccio compatto Eh Addirittura si arriva al deserto E c'è anche la stazione Qua Una paracca bolla Una luce Eccolo lì Eccala Questo qui doveva essere un video serio E invece no E invece Ok vogliamo proseguire Sì Quindra ha deciso Sì già Ho detto Vogliamo proseguire Mi giro E c'è Quindra Già sul kart Dai io vado No 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 Stanno tornando indietro Guarda dietro No mi hai rilanciato dietro C'è un stand flash È gigante Ok Oddio stanno tornando indietro Stanno tornando No Andate avanti C'è un po' di Di confusione qua in mezzo Ci sono dei carrelli Che vanno Per i cavoli loro Ok ti sto raggiungendo A me è crashata la vita Su Dai 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 Ok andiamo Un amo Veloci come il vento Ok dai Ti raggiungo Dove sei? Stanno in Ho però passato una Una costruzione Assai misteriosa Sì Ti vedo ti vedo Sei in fondo Qua si possono fare le gare Glambestine Sì 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 No 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 Ok 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 andiamo Tieni prendi quello Lui che si Prendo quello Questo ecco Eh sì Io Vabbè No No hai preso anche il mio No li stai prendendo tutti Fermati Fermati Sono rientrato nella disco Ok un sacco Ma Ma Stai facendo tutta a piedi Ora ti perdo Freak sono nel deserto Voi dove siete? Eh noi siamo in un altro Pio Eh No nel deserto Vassero indietro Ciao Oh Eccoci qua ragazzi Facciamo un po' Familiarizziamo con i villager Con i villager Sì Familiarizziamo con la TNT No 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 Ma qua qualcosa in realtà è saltatinario perché C'è anche un centro pokemon Dark was here Ci sono dei villager qua sotto terra Hello there Would you like to buy fresh broccoli? Mi vuole vendere fresh broccoli You don't like broccoli? Well I never heard that before Guarda Ci sono due centri poco Guarda Poi ti guarda da lì Ciao Eh l'hai ammazzato L'hai ucciso Non merita di vivere Va bene abbiamo fatto Eh due Si sta morendo Io direi O facciamo O torniamo indietro Facendo altre gare clandestine Oppure cerchiamo qualche pokemon qui in giro Anzi possiamo fare così Possiamo fare un pezzo di gare clandestine Tornando E ci fermiamo nel deserto E vediamo se spawn ha un bel groton Ok Eh ci sta ci sta Namo Ah stavolta vado io per primo Però voi mi dovete seguire Va bene Ok Andiamo Aspetta Ecco Pronti Manca un kart Vabbè Quindra mettiti davanti Mettiti davanti Tieni Sii È partita Incredibile Attenzione Parti Quindra Parti Quindra in quinta Quindra in quinta Vabbè ok Ci siamo capiti Velocissima Attenzione C'è un Vulpix Questo è tipo il giro Il safari La zona safari La fai sopra Sopra i kart Attenzione Attenzione La vostra sinistra No ci sono altri kart Ma quanti ce n'è Ma quanti ce n'è Ciao Vagati qua Per tutta l'eternità Ora No vabbè Si deve levare Quei cosi No sono tornato Indietro io No È un'impresa È un'impresa Arda ragazzi Ma ce la dobbiamo fare No Voglio Ti do una spinta Io vai Ok Siamo anche Mi seguo a piedi Oh Mi piacita No No ma c'era la fermata Tanto più avanti Io scendo prima Ciao Io Guardalo Che vuole volare E Boom No 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 Vi hanno rilanciato dietro No 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 Ok Andiamo Ah si Ok Me l'hai distrutto Dove è qui Qua Adesso Ve la di noi Qua in alto Ah ok Qua Io Ho trovato un Larvesta Io ho trovato un Groudon Cosa Groudon? Sì è qui Ci sto lottando ma è al 70 Mi sciotta la vita Ma io mi ero gassato per un larvesta a livello 6 Ma dove sei? Ma che ne so qui ci stanno le montagne Eh le montagne Aspetta vedo della lava Aspetta andiamo da questo No forse l'ho visto Forse un attimo l'ho visto Vediamo Ecco io dall'inquadratura vedo qui Indra Ecco ecco Eccolo ragazzi Eccolo Ok è scomparso Appena sono arrivato Mi sa che ti ha detto Nope Attenza snervante Hai catturato Groudon No vabbè Faccelo vedere Lo devo prendere non è in squadra Ok allora facciamo così Andiamo con i kart però Perché non voglio Non voglio viparmi Voglio fare le gare clandestine Andiamo verso la nostra base E poi mostriamo il Groudon Dove tocca andare? Di là Allora è partito Di là Sì 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 Via 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 Cota con feste Cota con feste Cota con feste Sto anche piovendo Che cosa succede? No che è una gioia Sì 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 Sto piovendo Sto piovendo Guarda come corre Mentre quello muore Come alzò Attenzione La corsa pazza Incredibile Vai Scarmony Corri Corri Ora Ti lancio Ti lancio Il guscio rosso Guarda che ti lancio Il guscio rosso Io ti lancio Siamo sott'acqua Ah ok no Di magica Nevica qua sopra E noi invece noi siamo sott'acqua E poi piove Piove Nevica Ne Aio Quella era una montagna Siamo dentro un tunnel Sì Becca di questa No Becca di questa Io me ne vado Finora come leggendari siamo pari Perché anche Quindra ha catturato Seleby Io pure E io ho anche Kyogre Sì vabbè E io No Ho anche Rayquaza Sì sì vabbè Tu hai che è tratto solo Grogu Ok qua sono all'interscambio No 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 Ok si è distrutto Vabbè andiamo a piedi No ci ne sono altri due Andiamo Vai 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 Ciao Freak Vai ci vediamo sopra casa tua Ecco Ok Io vi raggiungo e i mezzi ultimamente non funzionano tanto bene Quindi Sei lento Freak Arriva nel ritardo Non è colpa mia Sciopero sciopero Ok Io continuo a prendere in faccia alberi e robe del genere Ma vabbè No invece qua è tutto normale C'è un Magikart sopra un albero Tu ti la metti così in faccia Regolare È regolarissimo Gotako Fest È imponente È imponente lo posso cavalcare No Non ci credo Si può anche cavalcare Dove è qui? Andrei tutto Cioè Comunque il mio Ehi Freak Vuoi vedere un pesce fuor d'acqua Sto cosa è sempre 5 bravo Oh ma Che puoi prima dire caro Ho cazzolato anche un Blaziken Oh ragazzi Ragazzi se salite sopra casa mia Possiamo finire come abbiamo iniziato Perché c'è l'alba Forza È vero Tutti sopra casa mia C'è una quindra selvatica lontana Che è dall'altro lato Casa mia è dall'altro lato Madonna Che senso dell'orientamento Ma peccato che non vedo un accidente diverso E qui il drah non c'è perché si è perso Ma che è? Il sole se n'è andato Che carino che c'è Grodon Va bene ragazzi Niente Con questa visione incredibile di Grodon Appena catturato Che sta sfondando la mia stanza Lo togli? Ma dettagli Va bene Noi vi salutiamo Vi vediamo appunto nel prossimo episodio Qui sono Pix Ma non c'è Quella che scuola Nanzi Vigno Se vi è piaciuto lasciate un bel like i commenti E condivisione E noi ci vediamo In un prossimo episodio Nanzi Vigno Nanzi Vigna